Si moltiplicano sul territorio le iniziative a sostegno del popolo afgano in fuga dai talebani in vista del ritiro definitivo degli Stati Uniti il 31 agosto. Dopo l'annuncio da parte del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni che si è detto disponibile ad accogliere sul territorio i profughi e rifugiati in fuga dall'Afghanistan, manifestazioni di sostegno arrivano anche da Ottati e da Albanella. Da sempre Ottati accoglie e costruisce ponti verso i più bisognosi non potevamo non farlo anche questa volta, ha spiegato il primo cittadino Elio Guadagno affermando che le immagini che arrivano in questi ultimi giorni dall'Afghanistan sono strazianti tali da non lasciarci indifferenti. Avendo già un progetto SAI attivo sul nostro territorio ha proseguito il sindaco, volto all'accoglienza e all'integrazione con delibera di giunta comunale abbiamo incaricato il responsabile delle politiche sociali di Ottati, Raffaele Fasano affinché in sintonia con il soggetto attuatore e la cooperativa L'Impronta si manifesti al servizio centrale la disponibilità ad accogliere famiglie afghane in questa dura e triste pagina di storia globale. Infine il primo cittadino Guadagno ha spiegato con piacere che si registrano anche iniziative individuali di cittadini ottatesi che si sono candidati ad ospitare famiglie afghane mostrando ancora una volta il cuore d'oro del paese. Anche ad Albanella la Commissione Pari Opportunità del Comune guidata dalla Presidente Luanna Santa Lucia ha annunciato proposte a sostegno del popolo afgano partendo dall'avviso pubblicato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania che ha invocato subito un tavolo con le associazioni per offrire ai profughi un'accoglienza sicura. La Commissione del Comune di Albanella in nome della Presidente e del Consigliere Delegato alle Pari Opportunità Antonella Maraio si è detta vicina alle donne e alle bambine e bambini afghani vittime di uomini senza scrupoli e violatori dei diritti umani e ha invitato tutti ad aiutare chi rimane e ad accogliere chi fugge.